lunedì 15 gennaio 2024 la settimana inizia con l'assenza degli operatori statunitensi perché oggi infatti wall street rimarrà chiusa per festività si celebra il martin luther king day e di contro però oggi prende il via il forum internazionale di davos che poi terminerà il 19 gennaio e che prevede diversi interventi discorsi di banchieri centrali tra cui anche quello della presidente della bce christine lagarde mercoledì ovviamente sarà un'occasione per sentire appunto le parole dei banchieri centrali e di carpire possibili indicazioni sulle future mosse in particolare sull'apertura verso il taglio dei tassi infatti banche centrali e inflazioni rimangono in primo piano per i mercati finanziari l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi con il dato sull'inflazione negli stati uniti che ha deluso le aspettative i prezzi sono tornati a salire più del previsto ma attenzione perché anche su questo fronte giocherà anche un ruolo il fatto delle delle tensioni geopolitiche nel medio oriente nel mar rosso che potrebbero risollevare riscaldare le quotazioni del petrolio e quindi aumentare le pressioni inflattive e a proposito di tensioni geopolitiche io vi ricordo che nel weekend si sono svolte le presidenziali le elezioni presidenziali in taiwan un altro fronte che potrebbe surriscaldarsi e che quindi da monitorare sul discorso appunto taiwan e cina ma andiamo a vedere quali saranno anche gli appuntamenti più importanti da seguire in questa settimana diverse indicazioni arriveranno proprio dalla cina in particolare riguardo il pil relativo al quarto trimestre del 2023 in uscita mercoledì secondo gli analisti dovrebbe mostrare un ulteriore rallentamento a livello tendenziale dimostrando insomma come l'economia cinese stenti ancora a riprendersi e la crescita insomma rimanga ancora poco vigorosa. Tra gli altri dati è importante anche le vendite al dettaglio negli Stati Uniti che dovrebbero confermare il buon andamento dei consumi interni ovviamente questa è una variabile importante in quanto i consumi interni lo ricordiamo pesano per una buona parte del pil della crescita dell'economia americana. Non dimentichiamo poi anche di guardare al fronte societario perché venerdì sappiamo è iniziata la nuova stagione dei conti quelli relativi al quarto trimestre del 2023 e anche nei prossimi giorni ovviamente questa stagione dei conti continuerà già domani ci saranno i risultati di alcuni colossi bancari americani come Goldman Sachs e Morgan Stanley quindi da rizzare le antenne guardare anche questo fronte. Questi gli appuntamenti insomma più importanti principali che ci aspettano nei prossimi giorni ora però iniziamo il nostro la nostra chiacchierata sui mercati sulle strategie sugli investimenti e lo facciamo insieme all'ospite di questa puntata con noi Carlo De Luca responsabile investimenti di Gamma Capital Markets. Buongiorno Carlo e benvenuto. Grazie buongiorno a voi. Allora Carlo direi di iniziare da quelli che sono un po' gli ultimi spunti anche per fare un po' il punto di questo inizio d'anno. Nei giorni scorsi abbiamo visto forse il dato più importante quello sull'inflazione negli Stati Uniti che ha deluso appunto le aspettative del mercato ti chiedo quali implicazioni per la Fed in particolare per il il taglio dei tassi quali tempistiche quali variabili potrebbero influenzare anche le prossime decisioni? Ma deluso eh sì leggermente superiore alle aspettative se andiamo a guardare all'interno però c'è stata infatti una una reazione ehm negativa alla giornata del dato ma il giorno dopo già subito riassorbita. Se andiamo a guardare nel dettaglio eh effettivamente riscontriamo che lo shelter che è appunto l'indice ehm per ehm l'immobiliare più che altro è leggermente superiore rispetto a quello che era nel mese precedente delle aspettative ma insomma l'energia cala ed è tutto sotto controllo anzi forse questo dato va visto in maniera positiva per le trimestrali che stanno per arrivare perché in realtà se noi andiamo a guardare il CPI che sale al tre virgola quattro per cento e poi guardiamo il PPI ossia quello il costo della eh dei prezzi alla produzione all'uno per cento ci rendiamo conto che si sta abbattendo sul consumatore un quasi un più di un due per cento un due e mezzo per cento eh di prezzo di inflazione no? E questa è tutta marginalità che va alle all'interno delle aziende soprattutto ovviamente le B2C no? Quelle che lavorano nei confronti che vendono al consumatore e che potrebbe poi eh potrebbero uscire fuori proprio nella negli utili delle trimestrali delle trimestrali che inizieranno domani e che dureranno due tre settimane una marginalità di un due punto z due punto cinque in più per le aziende. E Carlo ehm secondo te effettivamente ci sarà uno spostamento per tornare al dato sull'inflazione alla Fed in particolare eh del del taglio dei tassi si immagina marzo adesso però potrebbe effettivamente slittare c'è questo eh diciamo questa aspettativa tu di che opinione sei? Ma eh allora io io penso che la Fed oramai eh ci insegna che ad ogni riunione eh diventa eh comunicativamente eh più dovice o più occhice ossia più accomodante o più restrittiva anche a seconda dei livelli dei mercati finanziari. Nella il ventisette e ventisei di ottobre eravamo su una eh su dei livelli di azionario mh abbastanza critici media duecento giorni piuttosto che anche più in basso ma soprattutto eravamo su dei livelli molto critici per i rendimenti del treasury americano tant'è vero che né durante la ehm la conferenza stampa a un giornalista Powell disse che era ehm che la Fed iniziava a guardare i rendimenti del treasury americano ecco da lì è scattata poi il grande rimbalzo per cui molto spesso eh eh non è tanto il ciclo economico che eh va ad influenzare ehm il il la decisione sui tassi ma più che decisioni parla di parla di esempio di communication forward ossia di aspettative e di modo e di dialogo del delle banche centrali. Il dialogo delle banche centrali è diventata più accomodante per via di questi livelli. Visto che in questo momento siamo in una situazione più o meno opposta se abbiamo un treasury sotto il quattro e dei livelli di eh di azionario ehm abbastanza alti ma non sono cari poi magari dopo spieghiamo anche perché ehm potrebbero ecco non essere così dovici così accomodanti come ehm nel nelle eh riunioni precedenti. Però attenzione perché questo pensiero io lo avevo già a dicembre e poi mi sono dovuto ricredere perché Powell poi effettivamente è stato ancora più accomodante di quello che doveva essere a novembre. Allora questo mi fa pensare due cose. O hanno dati che noi non abbiamo ossia che l'economia poi non è così forte eh come sembra ma io non penso che sia questo il caso oppure ehm è una ragione più politica che altro per via delle elezioni di novembre e forse questo ha un peso superiore. Questo è il motivo per cui anche il mercato sta scontando sei otto eh tagli addirittura con l'inizio a marzo con l'ottanta per cento di probabilità mentre eh la Federi aveva detti per il momento tre o quattro per cui stiamo scontando qualcosa in più. Vediamo che ehm la decisione forse finale se a tagliare già a marzo o se rimandare dipenderà come arriveremo a marzo a livello di mercati finanziari e anche di eh di dati economici. L'inflazione non sembra essere un problema. L'America è comunque in un in un no landing per il momento. Poi ci potrebbe essere un soft landing ma non penso proprio ci sia un hard landing e la probabilità più bassa che diamo a questo scenario ma molto lo lo diranno anche le trimestrali. Domani inizia come ha detto lei Morgastalli e Goldman Sachs poi ci saranno le tech e ci renderemo conto se effettivamente le guidance che sono state già tagliate nel trimestre precedente sui utili eh saranno poi sorprese al rialzo e quindi ci sarà una nuova linfa per i mercati azionari. Allora andiamo a vederli più da vicino questi mercati azionari. Ricordo ovviamente che eh la prima riunione del 2024 della Fed è fissata per a fine mese il 31 gennaio eh ma appunto ehm andiamo a vedere eh l'azionario. Eh gennaio sembra essere un mese storicamente positivo per i mercati azionari sicuramente questo lo vedremo poi sicuramente il tech rimane caldo almeno in questo inizio d'anno Carlo abbiamo visto un invidia che è partita nuovamente a razzo come era già successo l'anno scorso nel 2023 e poi sappiamo quello che è successo. Apple invece di contro eh ha faticato ha avuto qualche difficoltà eh ti chiedo ovviamente allora se queste magnifiche sette rimarranno tutte magnifiche nel 2024. No. Non penso proprio. Allora eh l'anno scorso l'SMP 443 o se proprio vogliamo prendere l'SMP equal weight quello appunto senza il contributo incredibile che hanno fatto le magnifiche magnifiche sette l'anno scorso non è che poi abbia avuto questo grande rendimento ed è per questo che visto che questo grande rendimento è anche viziato dai Bayback eh con dei record mostruosi 70 miliardi mi sembra era Amazon Alphabet per cui sono sicuramente eh questo non è l'anno su cui puntare sulle Giant e le Titan Cap ad eccezione di NVIDIA. NVIDIA è l'unica perché è uscita una settimana fa con delle schede grafiche che addirittura farà rilanciare anche titoli come IBM, Dell e HP perché si rivenderanno di nuovo i PC avendo fatto una scheda grafica per l'intelligenza artificiale generativa che farà rivendere di nuovo un prodotto che sembrava essere messo ormai sugli scaffali, rimanere sugli scaffali. Ad eccezione di questa Apple ha dei grossi problemi con la Cina abbiamo scritto anche un pezzo uscito su Sole24ore che spiega proprio la differenza tra Microsoft ed Apple ma io non mi soffermerei tanto su queste sette abbiamo capito che l'Apple è la peggiore, l'NVIDIA è la migliore ma non saranno queste sette a fare il a fare le performance quest'anno, anzi della tecnologia che io trovo molto a buon mercato soprattutto nelle sacche di tecnologia innovativa dei microchip e dei semiconduttori troviamo dei price earnings che addirittura vanno tra 15, 18 e 20 per cui abbiamo nonostante i rialzi anche di gennaio ma degli ultimi mesi abbiamo delle large cap non mid cap, large cap che sono molto a buon mercato. Poi secondo me se ci sarà il taglio dei tassi saranno le mid e le small cap a sovra performare finalmente il Russell 2000 a sovra performare le S&P 500. Ora negli altri segmenti della tecnologia parlando solo di tecnologia troviamo molto importante che si parla c'è un hype enorme sull'intelligenza artificiale ma questa non è in bolla ma potrebbe arrivare in bolla per via di mode passeggere dobbiamo capire che la piattaforma, la base per creare la giusta domanda, la giusta offerta di intelligenza artificiale come appunto Nvidia ha fatto la scheda grafica deve essere l'hardware uno su tutto quindi chip e poi deve esserci la sicurezza. Quindi c'è una mancanza enorme di cyber security e il cyber security rispetto al segmento dei chip dei semiconduttori è leggermente più caro ma comunque giriamo intorno a 40-50. Io ricordo sempre gli esempi di Netflix e Amazon nei tempi d'oro nei tempi d'oro barriere all'entrata altissime monopolisti crescita incredibile price earnings 200. Non è che erano in bolla poi sono cresciute del 500% in quegli anni ma perché ci sono dei momenti in cui si è talmente disruptive in cui il price earnings soprattutto quello attuale conta poco se non viene messo a paragone col price earnings forward a 1-2-3 anni. Ebbene il cyber security vale lo stesso così come vale per l'intelligenza artificiale ma se dovessi dare una scaletta di rischio che poi è la stessa che avevamo dato qualche mese fa noi mettiamo prima su tutto il chip e i semiconduttori poi la robotica poi il cyber security poi l'intelligenza artificiale e alla fine ad esempio il cloud che è il più caro di tutti. Pensiamo che la tecnologia ha tantissimo da dire perché comunque anche in media il Nasdaq considerando anche le magnifiche 7 ha comunque era a 30 quando eravamo sui massimi del di luglio e quando c'è stata la grossa discesa di ottobre la grande risalita facendo nuovi massimi non siamo tornati a 30 siamo a 25 il che vuol dire che nel frattempo la tecnologia ha fatto tanti utili. Quindi insomma Carlo c'è vita oltre le magnifiche 7 c'è vita anche oltre la tecnologia ti chiedo? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Dove guardare Carlo? Allora oltre la tecnologia noi possiamo andare a prendere delle scelte io le chiamo di difesa o di attacco visto che con la tecnologia stiamo prendendo un settore di qualità che cresce ma che viene ben prezzato possiamo anche accompagnare un settore che invece non è ben prezzato che magari non dovrebbe crescere ma è talmente sottovalutato quindi value che potrebbe anche rimbalzare in caso di recessione dico proprio un'assurdità ma in realtà è proprio così uno su tutto l'automotive tedesco Porsche, BMW, Daimler o Daimler Truck tutto quel settore premium brands dell'automotive viene prezzato tra i price earnings 2, 2 e 5, 5,5 o 6 ora anche se c'è una recessione e vengono tagliati gli utili del 30% probabilmente quel price earnings potrebbe diventare anche da 2 a 3,4 e da 5 a 5,6 perché comunque sono dei price earnings veramente troppo troppo bassi che non hanno neanche incorporato il valore del marchio per cui questo potrebbe essere uno dei settori che sicuramente noi consideriamo value quest'anno e potrebbero crescere proprio per motivi di sconto di valutazione patrimoniale troppo bassa un altro simile a questo ad esempio che è un po' più rischioso è il solare ma se proprio non si vuole rischiare nel solare potremmo andare nelle rinnovabili in generale che l'anno scorso hanno fatto veramente molto male hanno fatto anche molto male perché venivano da un 2022 dove più o meno si erano difesi a differenza degli altri settori per cui ecco questa è sempre un po' la rotazione settoriale che c'è di anno in anno quest'anno potrebbe essere questo anche un settore interessante poi ci sono anche le aree geografiche perché abbiamo ad esempio da un lato per esempio l'India che sta tirando benissimo e potrebbe essere assimilato come la tecnologia è un settore che cresce e va bene e la Cina dall'altro lato che ha dei grossi problemi ma viene valutata a price earnings di 4 per cui a me piace il portafoglio sia sempre costruito con una parte value e una parte growth in modo tale che nei momenti di correzione la parte value ti regge e la parte growth magari ti torna indietro e ti fa perdere un po' però poi alla lunga nell'anno secondo me i settori citati e le aree geografiche citate dovrebbero fare bene e allora a proposito di area geografica Carlo sempre in questo inizio d'anno abbiamo osservato un indice Nikkei particolarmente sprint ha sfondato i massimi dal 1990 quindi ti chiedo quali considerazioni fare sul Giappone ma più in generale sull'area asiatica perché vediamo questi andiamenti un po' discordanti tutta molto interessante molto molto interessante del resto l'Asia poi durante il ciclo del taglio di tassi americani fa sempre benissimo ma tutti i Giappone come appunto hai citato tu Valeria e l'India insieme alla Cina sono tre storie totalmente differenti ma tre storie che secondo me potrebbero essere vincenti iniziamo da quella più malconcia che è la Cina la Cina viene da valutazioni veramente bassissime che sono dove i flussi degli investitori internazionali sono tutti completamente usciti non c'è investito più nessuno se non qualcuno in qualche fondo dove perde ancora il 50% è difficile chi andrà a vendere la Cina col 50% di perdita per cui possono solo entrare nuovi flussi per quanto riguarda e quindi questo è un prodotto diciamo una strategia a sconto dove bisogna sempre diversificare e pesarla poco ma perché no? almeno lasciarla nei portafogli noi siamo entrati e non ci stiamo guadagnando dall'estate scorsa ma è stata una delle operazioni che non abbiamo avuto che non abbiamo il segno più mentre per quanto riguarda l'India l'India è un po' la Cina di 5 anni fa ha infrastrutture, ha tecnologia documentazione per fare i deal in inglese ha tante cose per cui anche la demografia ha tante variabili che ci dicono appunto che è l'area giusta dove investire e il Giappone come hai detto tu che esce fuori da 30 anni di deflazione finalmente ha un po' di inflazione e comunque ha la possibilità di poter finalmente partecipare alla festa dell'azionario cosa dalla quale era stata messa fuori da tanti tanti anni per cui tutta l'area asiatica come appunto dicevi è un'area che ci interessa dove investiremo congiuntamente agli Stati Uniti e ai settori che ti dicevo prima Carlo invece guardiamo anche un po' il mercato obbligazionario qui secondo te come posizionarsi considerato appunto anche quello che ci dicevi la politica monetaria quindi il discorso tassi si può delineare una strategia? Ma sarà un anno comunque facile per l'obbligazionario bisogna mantenere obbligazioni in portafoglio noi non aumenteremo la duration anche se sono convinto che farà bene aumentare un po' la duration ma visto che prendiamo dei rischi sull'azionario preferiamo essere in difesa sulla parte obbligazionaria nel momento in cui l'area corporate scadenza 4-5 anni ci dà dal 3,50 al 4 a seconda del rating non vedo perché andarsi a prendere dei rischi sulle qualità del credito più basse tipo la yield oppure una duration più alta di questa per cui ci manteniamo con una scadenza diciamo media breve che sono 4-5 anni se proprio vogliamo prenderci un rischio superiore andiamo nelle margin market bond quindi paesi emergenti come dicevamo prima uno su tutto il Messico ma anche l'Asia non è male anche local currency per una piccola parte perché solitamente quando c'è il taglio dei tassi le valute locali emergenti fanno molto molto bene ma a fianco all'obbligazionario Valeria io ci metterei anche uno zoccolo duro ancora di oro di oro fisico e oro fisico coperto dal cambio perché questi tagli dei tassi inizieranno prima della BCE dureranno saranno più violenti e comunque il cambio lo decidono sempre gli americani per cui probabilmente poi ci sarà un momento che se non sarà il secondo semestre del 2024 magari sarà il 2025 ma penso che sarà già da quest'anno l'euro dollaro andrà ben oltre l'1,10 per andare verso 1,12 1,14 1,15 e questo potrebbe dare maggiore sdlancio un po' a tutte le commodities maggiore sdlancio soprattutto al metallo prezioso visto in comitanza del taglio dei tassi quindi sempre soeggiato è come se si comprasse l'euro fisico per due l'euro fisico in pratica con una leva dovuta al fatto che il cambio è coperto quindi obbligazionario euro corporate margin market bond margin market local currency oro fisico e giato questo a fianco a tutte le azioni crescita e value che ho detto prima non sarà sicuramente la stessa formula che probabilmente utilizzeremo tra sei mesi che poi i nostri portafogli sono estremamente dinamici ma a livello di strategia di asset allocation difficilmente si discosteranno molto da quello che sto dicendo adesso bene tutto chiaro insomma un portafoglio che in cui insomma ci sono diverse asset class come sempre Carlo non manca mancano pochi minuti alla conclusione di questa di questa chiacchierata ma volevo anche chiederti una considerazione su una novità di questi ultimi giorni di questo inizio anno mi riferisco ovviamente alla decisione della SEC che ha appunto autorizzato l'ETF legato al bitcoin tutto questo ha risvegliato no un certo così interesse o comunque chiacchiera intorno alle cripto e io ovviamente non posso non chiederti il tuo parere quale opportunità quali rischi per gli investitori secondo te mi sembrava strano non aver ricevuto ancora questa domanda perché è stato incredibile anzi se proprio non si voleva far parlare di questa classe la SEC ha fatto di tutto affinché se ne parli persino l'hackeraggio della posizione twitter di uno dei suoi durante l'autorizzazione comunque tutti anche se andiamo a fare la spesa al supermercato sanno che c'è un ETF adesso su bitcoin quindi se vogliamo azione riuscita al 100% per chi è interessato appunto a questo genere di asset class sicuramente questo avrà un'influenza sui prezzi l'ho già avuto prima perché il bitcoin negli ultimi sei mesi da 25.000 è passato a 45.000 per cui ha avuto già incorporato nel prezzo questa autorizzazione però questa autorizzazione porterà degli ulteriori flussi e l'asset class sicuramente andrà bene se noi anche leggevo un'analisi di rapporti da flussi per un anno con una salita circa dell'87% noi però non ci investiremo perché noi abbiamo un approccio un approccio dove delle procedure di investimento dove deve essere molto chiara la regolamentazione con che cosa stiamo investendo i flussi di cassa e se ci sono delle incertezze lasciamo fare le scommesse a chi è più scommettitore noi siamo investitori e per tal motivo per il momento non ci sentiamo di diversificare nelle valute in particolare nelle criptovalute anche perché abbiamo un portafoglio quest'anno che è abbastanza chiaro sappiamo dove andarci a prendere la performance è un investimento nell'ETF bitcoin probabilmente lo dovrei pesare tra il 2 il 3 il 4% quindi non mi cambierebbe neanche la performance mi darebbe solo dei grandi grattacapi che non arriveranno secondo me perché oramai questa è un'autorizzazione molto importante da parte dell'autorità di vigilanza nell'accettare questa valuta per cui è una buona notizia per il bitcoin però ho altro a cui pensare ma questo è un mio ragionamento personale assolutamente sì Carlo allora io ricordo voglio ricordare questo proposito riguardo al mondo ETF che vi voglio invitare tutti soprattutto quelle che saranno a Milano l'ETF Summit che ci sarà il 22 gennaio in Borsa Italiana un incontro organizzato da WeWealth e da Borsa Italiana dove appunto si parlerà ovviamente di quest'ultima novità ma non solo quindi invito anche tutti i professionisti a partecipare e iscriversi a questo evento trovate tutto sul nostro sito e sui nostri social è arrivata una domanda Carlo quindi direi di dare spazio e provare a rispondere chiede cosa ne pensi del settore del lusso come la vede in quest'anno ecco non l'ho citato mi ero dimenticato io lo vedo lo vedo benino bene non bene come l'automotive tedesco perché non ha i stessi price earnings così bassi ma soffre chiaramente come l'automotive tedesco della situazione cinese quindi della domanda anche cinese dovendo dire che la Cina probabilmente recupererà devo dire anche che il lusso probabilmente recupererà per cui perché no sono particolari i grandi nomi come Hermes Elvimash Kering dovrebbero essere dei titoli che dovrebbero recuperare se non altro rispetto agli indici dell'anno scorso per cui sì lo vedo bene non benissimo ma bene bene allora abbiamo risposto anche a questa domanda Carlo siamo giunti al termine sono le nove i mercati in Europa stanno aprendo proprio in questo momento quindi lascio anche chi ci ascolta alla nuova giornata alla nuova seduta di borsa io ti ringrazio Carlo per essere stato con noi per le tue indicazioni per il tuo tempo grazie a voi arrivederci arrivederci Carlo a presto alla prossima ringrazio anche voi ovviamente per averci seguito l'appuntamento con Weekly Bell torna lunedì sempre alle 8.30 vi aspettiamo nel frattempo buona settimana a tutti grazie grazie